Buongiorno a tutti, andiamo ad esaminare oggi alcune disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia, il Decreto Leggio 18-2020, che riguardano direttamente o anche in via indiretta il mondo della scuola, in particolare il personale scolastico. Una disposizione in particolare riguarda i supplenti, destinatari di supplenze brevi e temporanee. Il Decreto Leggio dice infatti che le istituzioni scolastiche durante tutto il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche legate al fenomeno dell'emergenza Covid-19 potranno stipulare contratti di supplenza nei confronti di docenti o personale ATA con la finalità di potenziare la didattica a distanza. In particolare il Decreto Leggio prevede l'assegnazione di determinati fondi specificamente destinati alla stipula di questi contratti brevi e saltuari con cui le istituzioni scolastiche potranno nominare supplenti sia come personale docente che come personale ATA allo scopo di potenziare l'attività didattica a distanza, verificando che il personale da nominare sia munito di dotazione strumentale propria, ovvero nel caso contrario assegnando ai dirigenti scolastici e ai dirittori amministrativi la possibilità di conferire l'attrezzatura incomodato d'uso. In particolare con una nota del 18 marzo il Ministero ha chiarito che sempre per quanto riguarda le supplenze dei docenti, supplenze brevi e saltuarie, queste continueranno ad essere prorogate per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche anche qualora il titolare dovesse rientrare. Quindi questa è una norma a salvaguardia sostanzialmente dei contratti stipulati in favore dei supplenti. Inoltre è precisa che i dirigenti scolastici a fronte di queste risorse destinate dal Ministero alla stipula dei contratti a termine potranno attingere dalle graduatorie di istituto per la nomina di docenti o personale ATA con contratto a termine proprio per quella finalità che abbiamo detto di potenziamento dell'attività didattica a distanza. Altra disposizione che è inserita nel Decreto Cura Italia e che in via diretta sembrerebbe non riguardare il mondo della scuola è la disposizione che prevede la sospensione e il blocco dei licenziamenti. In particolare il Decreto Cura Italia prevede che nel periodo di 60 giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso sia a partire dal 17 di marzo sono sospese tutte le procedure di mobilità e di licenziamenti collettivi che dovessero essere avviate in questo periodo non che quelle avviate a partire dal febbraio scorso quindi per tutto il periodo di 60 giorni decorrenti dal 17 marzo. La norma inoltre prevede che i datori di lavoro non potranno procedere in questo periodo a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il dubbio che sorge riguarda le procedure di trasformazione dei contratti nei confronti dei diplomati magistrale. In effetti questa norma sembra destinata esclusivamente al personale del settore privato però in base a quello che sta accadendo in questi mesi nei confronti dei diplomati magistrale potrebbe trovare un'applicazione anche in quel settore. Mi spiego meglio. Il decreto 87 2018, il decreto legge, aveva previsto, il decreto dignità, aveva previsto nei confronti dei diplomati magistrale la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato in contratti a termine con scadenza al 30 giugno una volta che si fossero conclusi i giudizi in atto pendenti. Quindi una volta intervenuta la sentenza negativa sul contenzioso riguardante i diplomati magistrale coloro che fossero stati immessi in ruolo avrebbero dovuto subire una trasformazione del contratto che sarebbe stato trasformato a contratto a tempo indeterminato a contratto a tempo determinato. Secondo un'interpretazione che va sempre più diffondendosi in questo caso sarebbe configurabile un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sebbene l'amministrazione ritiene che non si tratti di un caso tipico di licenziamento. Naturalmente la lettura più prudente è quella suggerita, nel senso che considerandola un'ipotesi analogicamente assimilabile a un licenziamento si dovrebbero andare a rispettare i termini per l'impugnativa dello stesso e il termine per incardinare l'eventuale giudizio innanzi al giudice del lavoro. Se si considera quindi la trasformazione del contratto come un'ipotesi di licenziamento allora rientrerebbe questa ipotesi nel blocco previsto dal decreto Curitalia per cui verrebbero anche sospese le procedure di trasformazione dei contratti da tempo indeterminato a tempo indeterminato anche nei confronti dei diplomati magistrali. Grazie e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.